Se un alleato mi ruba la kill, il video finisce Calmi tutti però volevo dirvi una cosa prima di startare con la sfida Io ragazzi ho ricevuto i drop per Hyper Escape Quindi se andate sul sito Viola, sul mio canale E guardate le mie live mentre gioco appunto ad Hyper Escape Avrete la possibilità anche voi di ricevere il gioco Quindi ragazzi vi invito ad andare in descrizione nella sezione live streaming Ed iniziare a seguirmi sul canale del sito Viola Probabilmente saremo online tutto questo pomeriggio e anche nei prossimi giorni Quindi mi raccomando ragazzi tenetevi aggiornati Ok ragazzi quindi ci stiamo dirigendo nel mondo di Hyper Escape Per dettare la sfida di oggi che è se un alleato mi ruba una kill il video finisce Credo sinceramente che non sia una sfida così difficile da fallire In realtà perché i miei compagni mi hanno sempre definito il babbo natale delle kill Io sono sempre stato il tipo che i squad faceva sempre un botto di danno ai nemici Però puntualmente poi si faceva rubare le kill Perciò da qui babbo natale perché regalavo le kill C'è gente qua sotto Calmi 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 Ok ok quello lo sono riuscito un po' a traccare come si deve Vedo solo se riesco magari a concluderlo Ragazzi ok uno l'ha eliminato Il problema è che ora arrivano sicuri i compagni Cavolo infatti questo ha messo la mina praticamente Ho attivato l'armatura ragazzi ma io che me ne vado Cavolo no 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 Mamma mia ragazzi quello me lo sono preso io incredibile devo scappare Non so come sono stato così bravo di solito non sono così bravo su questo gioco ma va bene No credo di no credo che l'abbiano eliminato però io sento gente che sta sfondando qua Ok ok ho capito perché la gente sta sfondando qua Cioè ho capito dov'era la gente che stava sfondando In testa Stiamo attenti perché comunque se il nostro compagno che è andato praticamente Raga avanti da solo starà inseguendo qualcuno Sì ma lo stanno a massacrare Lo stanno veramente massacrando Stai lì Mannaggia miseria corazza subito Mi serve la mano Perché non mi sta curando Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Fratellino Perché questo non mi sta aiutando A parte che non mi sta curando neanche sta cosa Ok Sta tornando la vita un poco Un minimo di organizzazione l'avrei preferita Ma ok va bene Questo dove è andato Sta sopra immagino Dai devi stare qua sopra Non piacerebbe essere andato via Cosa ha fatto Si è diventato invisibile Mi ha preso in giro raga È diventato invisibile Ho sentito qualcuno qui C'è C'è effettivamente c'è Ok dai 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 non rubatemi la kill Per favore Dai 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 Ma sei serio? Ma stai scherzando? Lo sento andare qui? Lo sento andare qui? Ok 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 No questo però mi sa che Mi sa che perdo Mi sa che non riesco a fare io sta kill Dai Ok L'ho eliminato io Non so come sia possibile Però hanno messo un muro appena siamo arrivati Quindi da qui sicuramente non passiamo A meno che non sfondiamo Non ho seri dubbi Voglio giocare principalmente con quest'arma Perché mi ci trovo molto molto bene Serve per fare un danno iniziale E poi continuare con La mitraglietta Ok sta lì Ok raga però quelli sono tre Io li ho sparati tutti e tre Perché ho fatto una cavolata Quelli li ho sparati tutti e tre Ma ha dato un assist Mi ha dato un assist Svraellino Ok raga per fare un danno iniziale Ok raga per fare un danno iniziale